Concludiamo oggi una settimana dei nostri appuntamenti di qui a Europa durante la quale abbiamo continuato a presentare i primi 15 paesi dell'Unione Europea. Abbiamo parlato dell'Italia, Italia un paese che ha fatto parte del primo gruppo coraggioso dei sei che dedono vita all'unificazione europea con la firma il 18 aprile 1951 a Parigi del Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone dell'Acciaio La Ceca. Italia che ha avuto un ruolo importante dopo il fallimento della Comunità Europea di Difesa per la ripresa di un dialogo fra i primi sei per poter portare avanti ulteriori passi di unificazione europea. In effetti l'Italia organizzando nel 1955 e giugno 1955 a Messina una particolare conferenza dei ministri degli esteri consentì un recupero che diede vita al famoso rapporto SPAC di creare le condizioni per poter giungere nel 1957 alla firma dei trattati di Roma che istituirono il 25 marzo del 1957 altre due nuove comunità, la Comunità Economica Europea molto importante e la Comunità Europea per l'energia atomica. Nell'ambito dei paesi che abbiamo considerato questa settimana un capitolo particolare va riservato alla Gran Bretagna. Il Regno Unito è rappresentato sempre un paese molto importante evidentemente nel contesto europeo ma anche nel contesto mondiale, un paese di un grande passato coloniale, un paese con particolari rapporti, con rapporti privilegiati con gli Stati Uniti d'America. All'inizio del processo di integrazione europea il Regno Unito non era entusiasta di questa bellissima avventura, cercò di creare forme alternative, infatti nel 1960 venne dato vita per iniziativa del Regno Unito all'EFTA, l'associazione europea di libero scambio alla quale aderirono altri sei paesi europei che non facevano parte della Comunità Europea. Ma ad un certo punto la Gran Bretagna si accorse che non poteva rimanere strane a questo processo il quale stava viaggiando molto bene, soprattutto in seguito alla realizzazione, al processo che andava avanti con il mercato unico europeo. Avvertì il Regno Unito che rimanendo estraneo a questo processo aveva evidentemente molti svantaggi. Ecco che allora il Regno Unito presentò domanda di adesione alla Comunità Europea. Questa domanda fu peraltro fortemente osteggiata dalla Francia del generale de Gaulle, personalità molto forte che dominò praticamente la scena politica nell'ambito dell'Europa comunitaria durante tutti gli anni 60. Tuttavia la situazione, come sappiamo, modificò quando de Gaulle uscì nel 1969 dalla scena politica ed entrò all'Eliseo George Pompidou, uomo di altre sensibilità con il quale fu possibile da parte del Premier britannico stabilire nuovi rapporti e trovare nuove intese, finché in un particolare incontro fra Pompidou e l'allora Premier britannico Heath venne raggiunto l'accordo per cui la Gran Bretagna si impegnava a mettere saldi radici in Europa, nonostante i suoi rapporti privilegiati con gli Stati Uniti d'America e tutti e due i paesi erano d'accordo di portare avanti un processo di integrazione europea a livello intergovernativo che non trasferisse in maniera eccessiva poteri nazionali a livello europeo. Così si giunse nel 1973, primo gennaio 1973 con l'adesione di nuovi tre paesi, il Re Unito e altri due paesi nordici, la Danimarca e l'Irlanda. Fu evidentemente un passaggio molto importante di cui gioì in modo particolare Jean Monnet che fu il vero autore dell'avvio del processo di integrazione europea. Poi il processo continuò e anche ora sappiamo che la Gran Bretagna rappresenta un aspetto particolare nell'ambito del processo di unificazione. Volevamo augurarci che gli interessi comuni dell'Europa comunitaria possano superare evidentemente questi ricordi del passato e portare avanti in clima di maggiore collaborazione e riservando meno attenzione agli interessi nazionali e più a livello europeo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.